Ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi è il 10 febbraio 2019. Vi voglio commentare alcuni articoli su quella che è la notizia degli ultimi 4-5 giorni, ovvero la crisi Italia-Francia. Innanzitutto facciamo un attimo un riassuntone. Dove nasce la crisi? Allora, sappiamo che col governo francese ci sono stati vari attriti, sia fra Salvini e Macron, sia comunque fra i 5 Stelle e il governo in generale francese. Quello che ha fatto, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato che Di Maglio e Di Battista sono andati in Francia a parlare con uno dei capi dei gile gialli perché le elezioni europee si stanno avvicinando e quindi i 5 Stelle stanno cercando di creare un partenariato a livello europeo in maniera che poi una volta che sarà formato il governo, il Parlamento europeo, ci sarà già un gruppo e un'alleanza bella solida per portare avanti le proprie istanze. Alla Francia questa cosa non è andata giù, tant'è vero che hanno fatto un atto gravissimo come quello di aver ritirato il proprio ambasciatore da Roma che infatti è stato rimpatriato a Parigi. L'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, quello a cui Renzi diceva di star sereno e che poi è stato pugnalato alle spalle senza tanto né quanto, dice infatti crisi senza precedenti. È vero, è una crisi senza precedenti perché se ci pensate o se andate a cercare un po' di informazioni online l'ultima volta che è successo un atto politico così grave come quello di ritirare il proprio ambasciatore è stato prima che scattasse la seconda guerra mondiale. Quindi stiamo parlando di una cosa che porta alla memoria momenti di tensione veramente gravi, veramente pesanti. Sentiamo cosa dice il filosofo Cacciari, nonché ex sindaco di Venezia, nonché uomo di sinistra. Penso che al di là di qualche elemento di disordine mentale. Cacciari per tutta la puntata, io me la son guardata tutta come mi guardo a altri talk show online, dice che i 5 stelle e i pentastellati, o anche la Lega, hanno del disordine mentale. In ultimo chiudo la galleria degli orrori perché veramente parlare di quello che dice questa gente mi fa veramente inorridire. Il rettore dell'Università di Torino mette fuori la bandiera francese, quindi prima c'erano solo la bandiera europea e quella italiana, adesso il rettore aggiunge anche la bandiera francese. Ora, qual è il messaggio generale che voi ricevete se leggete la maggior parte dei giornali, i talk show, eccetera? È tutto monodirezionale. Italiani brutti, sporchi, cattivi, cinici, populisti, non capiscono niente, sono stupidi, hanno un disordine mentale, come dice il filosofo Cacciari. Dovremmo chiedere scusa alla Francia, che è un partner importante, che è perché in Europa bisogna rispettarsi, perché ci vuole la diplomazia, eccetera. Ora, pochi, anzi direi quasi nessuno da quello che ho letto, non ho visto qualcuno andare controcorrente, ne ho visti pochi andare controcorrente questo pensiero unico filo francese, si sono dimenticati alcuni dei fatti. Per esempio, che la Francia è così europeista, che è stato il primo Stato a stracciare uno dei principi cardine. dell'Europa stessa, ovvero la libera circolazione delle persone. Perché prima i cari cugini francesi hanno bombardato la Libia, ammazzato Gheddafi e creato la crisi degli immigrati, perché lo sappiamo benissimo come è andata. Poi, quando hanno iniziato ad arrivare a centinaia di migliaia di persone, hanno iniziato a mettere i gendarmi sul confine. tu vai al confine Italia-Francia, passi, ti fermano e ti chiedono documenti. È una cosa che prima non succedeva, perché c'è il trattato di Schengen, il famoso Schengen, che dice che la gente dovrebbe andare tranquillamente da uno Stato all'altro. Non è più così. Fra l'altro altri paesi l'hanno seguito, perché io sono andato in Germania quest'estate, in Germania ti fermano e ti chiedono documenti. In Austria, non lo so, ma chiedevano, mi risulta da alcuni articoli di giornale che ricordo molto bene, che anche lì era stato schierato addirittura l'esercito alla faccia degli europeisti. Vorrei ricordare a tutte queste brave persone filo-francesi che il cattivissimo Bolsonaro, che fra l'altro io non apprezzo perché ho fatto un video su Bolsonaro, il presidente del Brasile, appena entrato in carica ha detto noi qui abbiamo un terrorista assassino italiano, lo spediamo in Italia come gesto, prima di tutto, di giustizia verso le vittime, quindi in generale, secondo come gesto di rispetto verso una nazione che è nostra amica, l'Italia. In Francia, cari signori di sinistra e saputoni come Enrico Letta, ci sono 15, guardate, 5 dita moltiplicato per 3, 15 terroristi condannati in via definitiva, gente che ha ammazzato altre persone, gente che ha fatto incursioni, gambizzazioni, eccetera, che la mattina si mangiano il croissant, che la sera vanno a farsi gli escargots sui Champs-Elysées alla faccia dell'Italia. Quindi noi dobbiamo portare rispetto a una nazione che sta ospitando dei terroristi italiani. Ora, il gesto di Di Maio, come ho detto, poteva essere magari fatto in altri modi, poteva per esempio Di Maio mandare un altro politico al suo posto, lui è il viceministro, magari poteva mandare qualcuno di meno importante a parlare con quelle persone. Però, parliamo di atti non politici, ma di atti veri, no? Perché abbiamo detto prima che l'ultima volta che è stato fatto ritirare un ambasciatore è stato prima della Seconda Guerra Mondiale. Guardiamo cosa fanno i nostri bravi, diplomatici, progressisti, francesi. Loro, un anno fa, mandavano i poliziotti francesi nottetempo, oltre alla frontiera francese in Italia, a scaricare i migrati dalle loro camionette. Ora, un cazzo di militare armato che entra nel tuo territorio è un atto di guerra? E dove era tutta questa gente che adesso è filo francese, che difende la diplomazia, che dice che bisogna rispettarsi, far parte negli europei, quando la Francia faceva un atto di guerra verso l'Italia? Non è possibile pensare di stare sempre dalla parte degli altri e sempre contro il governo e contro gli italiani. Cioè, mi sono fatto la lista di tutte le robe che ha fatto la Francia contro l'Italia, e non le dico tutte perché il suo video dura già sette minuti, quindi è già troppo, ma dovrebbero queste persone per prime fare tutti i giorni campagna politica contro il comportamento della Francia. E invece cosa fanno? Fanno i traditori della patria, perché è questo quello che siete. Siete dei traditori della patria tutti i giorni a dire noi dobbiamo chiedere scusa perché i francesi, come se i francesi si comportassero bene, non è vero. I francesi sono quelli che a un mese da quando era entrato in funzione il governo pentastellato, dissero che la politica del governo, il portavoce di Macron, non un francese preso per caso a Nizza, un coatto delle bandiere, no, il portavoce di Macron disse che la nostra politica era cinica e vomitevole. La parola vomitevole è pesante. Dove erano gli insegnanti di diplomazia in quel momento? Com'è possibile che siamo sempre noi a dover chiedere scusa? Dove era Macron? Perché quella persona non è stata licenziata in tronco, è stato fatto un comunicato a Rete Unificate, ci scusiamo col governo italiano. Perché il governo italiano era appena entrato in carica ed era il rappresentante del popolo italiano. Va bene? Così, ho voluto fare questo video per dare un attimo un punto di vista diverso rispetto a questa ondata di filo francesismo insopportabile, perché per carità io ho tanti amici francesi come in tutte le altre nazioni del mondo, ma i rapporti fra stati devono essere livellati e parificati fra tutte e due. Non può essere che la Francia fa e dice quello che gli pare, gli italiani devono stare zitti e chiedere anche scusa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. State informati. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.